L'abbraccio di Dio Nel mio cammino viaggiavo senza meta, né luce alcuna nel mio cuore. Ma da lontano qualcuno ebbe pietà di questo mio dolore e regalò alla mia anima luce nel cuore. Mi è difficile spiegare le emozioni di un solo momento. D'un tratto il vuoto nel mio cuore sparì, lasciandomi sulle labbra un nuovo sapore. Un abbraccio che dà vita, senso a tutto ciò che fai. Nessuna persona mi ha mai abbracciato così. L'emozione rimane ancora oggi fissa in mente come a ripetersi sempre. Ciò che sin da bambino mi è mancato. In un attimo mi era stato dato l'amore a me da sempre sconosciuto. Da lì ho imparato a partire da zero. Ho scoperto in me la bellezza di un nuovo sorriso. Ed è difficile spiegare, difficile dire di vivere per l'abbraccio di Dio.